Oggi parliamo del topolino 3343. Iniziamo! Amici bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. No, non sto impazzendo, non penso di essere a Natale, solo che purtroppo il numero ordinario del topolino non è arrivato perché a causa di questa quarantena le poste che già prima non lavoravano bene ora stanno facendo anche più schifo. Oggi quindi parleremo del primo dei recuperi che come vedete sono da fare, ce ne sono altri tre da recuperare sempre perché le poste non funzionano e quindi parliamo di questo numero natalizio, numero che con la copertina va poi in combo con quello successivo e se la settimana prossima non arriva il topolino di nuovo lo vedremo assieme, altrimenti piano piano li recupereremo tutti. La prima storia che troviamo è Topolino, zio Paperone e il condono natalizio capitolo 2, un mistero per 2 più 1. Abbiamo già visto in realtà la prima parte tempo addietro e questa volta Paperone arriva a Topolinia e ingaggia Topolino perché vuole sfruttare ovviamente gratuitamente le capacità investigative del topo per scoprire cosa sta accadendo a Topolinia e a Paperopoli perché tutti i desideri o meglio il primo desiderio espresso in quella giornata si è esaudito per tutti. Topolino inizia quindi le sue investigazioni che lo portano assieme anche a Pippo ad arrivare nel castello di Babbo Natale e cercare così spiegazioni a lui e al suo staff. La storia è molto divertente da leggere, ha un umorismo delizioso soprattutto per quanto riguarda lo staff di Babbo Natale e ovviamente il comportamento di Pippo. La storia quindi scorre molto rapidamente ma anche con una certa organicità. Non si ha l'impressione di saltare troppo da un evento all'altro, da una scena all'altra. La cosa che con un retrogusto amaro è il disegno. Un disegno che è tutto particolare perché ricordiamolo è di Intini che perde così le proporzioni classiche della Disney riducendo le forme dei personaggi a schemi rettangolari per cui i personaggi sembrano un po' più schiacciati. E questa linea così moderna però aiuta tanto la lettura delle forme e dei volumi particolareggiando così soprattutto le espressioni dei personaggi. Sono anche delle tavole molto cariche di dettagli per cui è molto bello poter indagare su ogni vignetta quello che ha da dire. Paperinic è il segreto dell'identità segreta parte seconda. Abbiamo visto come Paperone vuole costringere Paperinic a presenziare a una premiazione per Lady Paga però Paperino fa pervenire la risposta negativa del supereroe e quindi Paperone per non lasciarsi sfuggire nulla convince Gastone a traversarsi dall'eroe mascherato anzi dal vendicatore mascherato. E quindi Paperino è costritto da un lato a mantenere alto l'onore e la nomea del supereroe e dall'altro a destreggiarsi con l'investigazione parallela fatta dai suoi tre nipotini qui qua qua a portare avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Paperone di Gastone e di tutta quella macchina che si è mossa proprio per sfruttare la sua immagine. Sappiamo benissimo che questa è una cosa che accadrà poi anche più avanti solo che non sappiamo come andrà avanti perché io non ho ricevuto il topolino. Il disegno è particolarissimo perché è quello che più aderisce all'immaginario che oggi abbiamo di Paperinic. Per di più queste linee così morbide e evidenti fanno risaltare i personaggi dagli sfondi che così si staccano con una certa armonia e ci aiutano così a leggere ogni elemento della scena. Interessantissimo poi la vignetta anzi la tavola finale di questo episodio. Zio Paperone e Paperino in La sfida del fiume d'oro. Paperino e Paperone sono ai ferri corti e sembra che non si possa mettere un rimedio a questa rottura, ennesima rottura. Però compaiono due personaggi che li invitano nella loro trasmissione quindi a partecipare a una nuova caccia al tesoro. Il problema si pone quando questi due che cercano di smontare la relazione di Paperino e Paperone e di fare gioco su questi loro litigi si mostrano invece essere i primi a non andare tanto d'accordo. La storia ha una morale che è tipica del linguaggio disneyano, dell'ambiente disneyano e si riassume praticamente nelle ultime battute quando seppur Topolino, Paperino e lo zio siano ai ferri corti iniziano a darsi una mano perché fanno parte della stessa famiglia e questa è una cosa che si evince sempre nelle storie della disney. Per cui siamo avanti a una storia molto classica quindi soprattutto sul finale come classico è il disegno che decisamente strizza l'occhio a qualcosa di vintage soprattutto nelle proporzioni dei personaggi e nell'uso del tratteggio. A dispetto invece di una linea che sembra un po' più moderna soprattutto nel suo essere così modulare e così alle volte affilata però è comunque interessante da poter vedere soprattutto perché i personaggi sono costruiti in maniera classica molto interessante e soprattutto disposti nello spazio in modo da creare dei vuoti e dei volumi e quindi un ritmo per l'occhio molto interessante da vedere. Manetta in Una notte ingarbugliata. Ancora una volta troviamo una delle avventure di Manetta anche questa alquanto comica molto divertente nella quale lo vediamo alle prese con un arresto. Sgrinfia viene messo in manette da Manetta e purtroppo per il poliziotto inizia a incappare così in una serie di sfortunati eventi che lo porteranno lui stesso dietro le sbarre. Come ho detto la storia è molto divertente ha quella comicità particolarissima di questo personaggio soprattutto quando lo si mette in contraposizione con Roxassi ma quello che più coinvolge e convince è il disegno. Un disegno con delle linee molto presenti nei contorni delle costruzioni dei personaggi o comunque degli elementi in generale di ogni vignetta che così esalta i volumi stessi di quello che viene raffigurato e rappresentato perché la camera con il punto di vista è molto vicino ai personaggi. Questo non fa altro che esaltarli dargli peso visivo e quindi anche a farceli sembrare molto più reali di quello a cui siamo di solito abituati. L'ultima storia che troviamo è X-Music le esibizioni che però le esibizioni rimangono solo nel titolo perché praticamente come abbiamo visto nei numeri precedenti le band di qua e di tip e tap ormai sono in semifinale in finale quindi devono arrivare a mostrarsi al pubblico ma questo mostrarsi viene praticamente sorvolato visto da lontano non viene raccontato degnamente perché come nelle storie precedenti si è voluto dare tanto spazio a tanta roba per poi non dire praticamente niente troppa carne a cuocere e diventa tutto fumo negli occhi perché in questa vicenda invece di raccontarci l'esibizione di questi personaggi si vuole raccontare l'ennesimo litigio l'ennesimo scontro l'ennesimo inciampo e poi così con una passata di panno mostrare come invece si risolva tutto in nome dell'amicizia magari come ho detto in passato sono io praticamente fuori target per questa vicenda ma probabilmente mi devo stare a questa impressione anche il disegno come in passato mantiene questa linea così doppia così spessa con questi colori molto presenti quasi asfissianti soprattutto nella presenza di queste linee nere queste chine nere che rendono molto chiuse molto scure alcune vignette praticamente un disegno che anche nelle proporzioni alle volte modifica l'aspetto originario dei personaggi e lo adatta a un qualcosa di un po più vicino alle nuove generazioni un linguaggio visivo che a me non convince di sicuro quindi sarebbe stato bello vedere un approccio diverso per queste storie di x music soprattutto in quest'ultima esaltare magari le esibizioni visto che il titolo era quello però purtroppo come ho detto troppa carne a cuocere e poi uno si mangia la roba bruciata per fortuna però abbiamo almeno le prime storie che sono molto interessanti sia dal lato della sceneggiatura ma soprattutto nel lato del disegno che sono molto apprezzabili come ho detto proprio per l'allegria che mettono come ad esempio il condono natalizio e ovviamente parliamo anche del disegno meraviglioso che becchiamo di nuovo in paperinic e perché no in quello molto classico che è proprio il fiume d'oro con paperino e zio paperone non male l'esperimento di manetta che questa volta non viene visto da lontano ma la telecamera e quindi il punto di vista viene avvicinato molto così da esaltare i volumi dei personaggi e renderlo con quel quid in più molto più interessante del solito quando parleremo anche del 33 44 vi farò vedere le due copertine ravvicinate molto molto belle che si completano a vicenda un'idea spettacolare questo è quindi quello che penso di questo volume mi dispiace purtroppo a dover recuperare natale che siamo ormai vicini a pasqua ma queste ci dobbiamo accontentare io spero che questa puntata quindi vi sia piaciuta vi aspetto nei commenti qui sotto ditemi il vostro parere a riguardo magari lo dovete rispolverare perché è passato troppo tempo però vi aspetto comunque per sapere la vostra se questa puntata vi è piaciuta ditemelo con un bel mi piace condividendola con i vostri amici ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella in basso mi trovate in tutti i social network che vi lascio qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani io sono Dario questa è il recenso e noi ci vediamo lunedì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su recenso pronti a sfogliare un nuovo topolino e volare insieme nel mondo della fantasia disney